Al menù di Luisa ho dato 8 perché c'erano dei piatti molto ricercati, se posso permettermi il filetto di unicorno l'avevo chiesto ben cotto e me l'han portato un po' al sangue però si sono fatti perdonare con il contorno di oro, incenso e mirra, davvero delizioso Alla location di Valerio ho dato 4 perché non puoi fare l'insegna al neon nuova, col nome del ristorante, la cascata, poi si fulmina la S, si spegne e non la ripari Dai fai una pessima figura Ho dato 8 al menù di Oreste perché le porzioni erano molto molto generose, sono sazi, ho forse esagerato anche un pochettino, per fortuna mi hanno portato un espresso